Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata salata ricotta e spinaci. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono per la frolla, farina di tipo 00, burro, uova, parmigiano, sale. Per il ripieno, spinaci lessati, ricotta, sale, pepe, parmigiano grattugiato, uova, noce moscata, fontina tagliata a quadrotti e pancetta o salame tagliata a quadrotti, che sono facoltativi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. Lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Iniziamo sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo la farina Le uova Il sale E il burro Ed azioniamo il bimbi Per 50 secondi A velocità 5 La frolla salata è pronta Formare un panetto Avvolgere nella pellicola trasparente E riporre in frigo per almeno un'ora Dopo aver lavate e asciugato bene il boccale Prepariamo il ripieno Mettere nel boccale La ricotta Gli spinaci Il pepe Il sale La noce moscata Il parmigiano Le uova Ed azioniamo il bimbi Per 40 secondi A velocità 5 Aggiungiamo Aggiungiamo La fontina E la pancetta Che è facoltativa Ed azioniamo il bimbi Per 20 secondi Antiorario Velocità 2 E ripieno è pronto Trasferiamolo in una ciotola Abbiamo ripreso la frolla dal frigo Adesso ne tagliamo una parte E stendiamo questo tra due fogli di carta da forno Una volta stesa Trasferiamolo in uno stampo per crostate Buccherilliamo il fondo con i rebbi di una forchetta Mettere il composto di spinaci e ricotta Rivelliamo bene Mettiamo momentaneamente da parte la crostata E stendiamo il resto della frolla Per ricavarne le strisce Oppure utilizzate una griglia per crostate Posizioniamola per 10 minuti in congelatore Abbiamo ripreso la frolla dal congelatore Passiamo bene il mattarello Per far cadere I rombi Stacchiamola Dalla base E posizioniamola sulla crostata Rimuoviamo la pasta in eccesso Rifiniamola con i rombi Con la frolla in eccesso abbiamo fatto dei piccoli decori Adesso andremo a cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi Per 30-40 minuti circa La crostata è cotta Lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo Crostata salata Ricotte e spinaci Grazie E alla prossima ricetta Grazie a tutti